Hi, Michele Magnani, sono italiano, stiamo nel backstage di Antonio Marras, uno dei miei preferiti stilisti. Credo che sia un genio perché riesce a veramente estrapolare quello che è l'essenza della femminilità nella moda e la può trasformare nella moda. Oggi il make-up che andiamo a creare attraverso la creazione di Tom Pesceau è un make-up con uno smokey molto geometrico che è stato realizzato con Black Track e l'utilizzo del 266 Brush e rinforzato con il Carbon Eyeshadow. Questo è uno degli esempi che abbiamo realizzato, questa forma un pochino più geometrica che dà questa intensità allo sguardo e molto interessante l'utilizzo del mascara Black però con il pennellino 204 che è questo del Brush per intensificare anche sulle ragazze con i capelli biondi quello che è proprio la forma delle sopracciglia. È un look credo molto moderno e lo trovo anche un po' avant-garde.